L'ultimo atto di una stagione comunque positiva avrà le sembianze di un remake, perché tra Unione Calcio Biceglie e Corato si sono già consumati quattro appuntamenti con vicende alterne tra Campionato e Coppa Italia. L'ultimo dei confronti non ammettere a repliche trattandosi della finale play-off della promozione, nella quale l'Unione Calcio partirà con l'obbligo di dover vincere, dovendo rimediare alla peggior posizione in classifica per via degli scontri diretti al termine della stagione regolare. Partita che Mimmo Di Corato, tecnico dei Biceglie, si sta preparando nei minimi dettagli sul manto erboso del Ventura. Sicuro che non ci sarà molto da dire alla squadra, perché una finale e un derby al tempo stesso avrà bisogno di poche parole. È una partita importante, i ragazzi lo sanno e le motivazioni credo che bisogna trovarle da sé. Inutile stare lì a spronare, a fare, a dire che serve a poco. Oramai il più è fatto, chi ce l'ha ce l'ha e poi la differenza la faranno poche situazioni, da un errore a un'occasione a favore. Questa è la gara che si va ad affrontare. Non si cruccia il tecnico dei Nerazzurri del fattore campo in favore del Corato e delle due sconfitte in campionato. Anzi, quelle sono già archiviate e per certi aspetti dimenticate. Quella è una cosa già passata, l'abbiamo messa da parte, poi abbiamo trovato gli equilibri giusti, abbiamo una partita all'andata un pochettino complicata, poi a ritorno abbiamo perso per una svista arbitrale, una mia considerazione personale. Ora la gara si affronta su una partita da dentro fuori, è diverso, prima la potevi un attimino gestire, oggi o si vince o si perde. Così come non c'è rammarico sull'esito del campionato di promozione dominato dal Gravina meritatamente, come ammette di Corato. Loro sono partiti bene, hanno continuato benissimo, quindi era complicato e difficile.